Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, definito il calendario dei lavori di riqualificazione del deposito tramviario di Porta Maggiore. Contemporaneamente vanno avanti i lavori di rinnovo dei binari tramviari. Sono previste dunque delle modifiche dal 1 di luglio e sino al 2 di dicembre per tutto il servizio tramviario della città. In una prima fase, dal 1 luglio e sino al 4 di agosto, le linee 2 e 8 viaggeranno su bus lungo tutto il percorso. La linea 3 sarà su bus tra Porta Maggiore e Valle Giulia, la 19 tra Porta Maggiore e Piazza Risorgimento. Servizio regolare su rotaia per le linee 5 e 14.